Spranga, mazzuola e una buona dose di pazienza. Il modus operandi era sempre lo stesso. Dopo aver sfondato le vetrine, si introducevano da un piccolo ingresso da veri contorsionisti, pochi secondi all'interno del negozio e poi subito la fuga con il bottino afferrato. Proprio grazie a questo metodo, i due erano balzati alla cronaca dopo i colpi messi a segno alla Louis Vuitton e al negozio Essian a Palermo. Il primo colpo ha fruttato ben 20.000 euro di merce rubata. Per venirne a capo ci sono voluti due anni di indagini dai carabinieri e dopo due anni i militari hanno arrestato Antonino D'Atria e Vincenzo Salemi di 27 e di 21 anni. Sarebbero loro gli artefici di una serie di furti e danni di esercizi commerciali messi a segno dal mese di agosto 2014 al gennaio 2015. I carabinieri della stazione Crispi si sono cimentati per ore e ore e con pazienza alla visione delle immagini di videosorveglianza dei negozi. Un lavoro meticoloso che ha dato i suoi frutti grazie anche alle tracce lasciate dagli autori tra i luoghi presi di mira. Entrambi sono agli arresti domiciliari.